Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Se Anna Pettinelli rifiuta in continuazione le proposte di Rudy Zerbi, e i telespettatori avevano sentito la mancanza di questa faida senza tempo e senza fine tra i due insegnanti di Amici 23, anche lei a quanto pare adesso proponga sfide azzardate Come quella fatta all'Orella Cuccarini, scatenando una forte lite Brutta discussione in quel di Amici 23 di Maria De Filippi e, per una volta, non è Rudy Zerbi a scatenare l'ira di Anna Pettinelli ma di un'altra insegnante di canto La proposta fatta allo studente di quest'ultima ha generato perplessità e fastidio per poi esplodere in una litigata Lorella Cuccarini troppo buonista? Amici 23, lite in studio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli Nella proposta di sfida di Anna Pettinelli per il discepolo di Lorella Cuccarini, Mida, la coach di Amici 23 è stata abbastanza provocatoria, ma è la normalità per il format di Maria De Filippi Ricordati che tu sei un cantante non uno scalda pubblico, si leggeva infatti Voglio capite se e come canti, gli ha scritto per poi proporre di cimentarsi in un brano difficile da eseguire, brevidi di Mamou De Blanco A sorpresa lui e la sua insegnante di canto non hanno rifiutato la temibile proposta e il 24enne si è esibito tra gli applausi Piaccia o meno ad Anna Pettinelli, secondo gran parte degli spettatori connessi sui social, il ragazzo non sarebbe stato male e avrebbe superato con successo la difficile sfida Ma lei non c'è stata L'hai cantata anche Benino L'ha canticchiata per le sue possibilità, ha pure avuto incertezza L'ha clonata, Lorella, dai Se una personalità la esprime fa sua la canzone, l'ha stoccata alla collega Voleva dimostrare che tu non sai cantare Ti sei data la zappa sui piedi Attaccati a ciò che vuoi, l'ha fatta bene, ha risposto l'altra Dai, ma smettila tu che non sai proprio a che cosa attaccarti Smettila, tu non sei proprio oggettiva, si è ancora lasciata andare Lorella Cuccarini in difesa del suo Mida Sei un'abbonista, mai un voto basso poi non ti esponi mai Capisco che sei la più amata dagli italiani ma ogni tanto mollati, la risposta, al vetriolo, della Pettinelli Finalmente qualcuno che non ha paura di dirlo, brava Anna, adesso finisce il rissa e, attenzione se le stanno dando di santa ragione, rosica e basta, è stato bravo, scrivono i fan sul web Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video